PEDALANDO Guarda il mattino e prende il primo sole sul viso che ride di già E quasi primavera i suoi sogni si fanno più veri E tutto sembra assumere un senso nel vento che va La ruota sembra un'erica Gianni non è mai stanco di correre per tutto il mondo Ed andrebbe più in là fino a toccare il sole e le stelle La luna e chissà se la sua felpa termica azzurrà Va bene anche là In giro sopra un'orbita In giro sopra un'orbita Gianni parla poco E vede il mondo come può ROX Un nome breve per camminare più a lungo ROX Un nome breve per volare sempre più in alto Signore e signori Buonasera Le nostre immagini vi giungono da Vangile Frazione di Massa e Cozzile Dove sta per prendere in via La 48esima Coppa Giussfredi Una classica riservata alla categoria allievi Che vede quest'anno 42 corridori iscritti E di questi 42 saranno ormai ufficialmente 37 i partenti Un percorso quello della gara di Vangile abbastanza impegnativo Con due volte l'ascesa della salita di Massa Una salita non lunga ma veramente impegnativa Vediamo intanto mentre si svolgono le fasi preliminari Vogliamo ricordare che il presidente di giurie è Galgani Componente Franceschini Giudice di arrivo Verani Direttore di corsa Viscusi Coppini Vice direttore Ed ora siamo ormai pronti per il via Al via ricordiamo sono presenti la polisportiva Mille Luci La Tosco Gas La Pozzarello Il gruppo sportivo Claudia La 4 strada RCG Tre Cificio La K2 Team Cicli Bizzari La Pozzarello Spina La Nuova Sfinge Alma E il Team Valdinievole Ed ora dopo che è stato dato il via Con le nostre immagini siamo al primo passaggio da Vangile Sono al comando 5 corridori Nel frattempo questi 5 atleti che si erano immediatamente involati Sono in corso in un errore di percorso Però come vedete sono ancora al comando Si tratta di Benvenuti, Boccafoschi, Pera, Disep e Orlando Questi 5 corridori hanno un vantaggio che ora quantificheremo dopo il passaggio sulla linea d'arrivo Il primo passaggio qui da Vangile Hanno un vantaggio di 15 secondi nei confronti di un duo composto da Stefanelli e Asti Due corridori all'inseguimento dei primi 5 Quindi una gara che è partita subito a sprombattuto Grande andatura Mentre ora con le immagini siamo sul gruppo inseguitore Il gruppo insegue con 35 secondi di ritardo Anche questo non è il grosso ma un gruppetto Riconosciamo Disep, Natalini, Giglio, Barontini e Mori Mentre il gruppo a Miraglie insegue con 1 minuto e 20 Questa è la situazione al primo passaggio da Vangile Ed ora siamo sulla salita di massa Due uomini sono al comando La situazione si è evoluta però ancora due uomini al comando Sono Disep e Benvenuti Due corridori che facevano parte del quintetto Che avete visto ha iniziato la fuga subito praticamente dopo il via Quindi due corridori al comando Quando siamo ormai in vetta alla salita Vediamo uno scatto di Benvenuti Ma Disep reagisce prontamente Vince il Gran Premio della montagna al primo passaggio Quindi due al comando A 16 secondi Stefanelli che nel frattempo ha rimontato Faceva parte insieme ad Asti del duo che inseguiva i 5 Ed ora dovrebbe passare un gruppetto Ecco sono tre corridori Si tratta di Felloni, Sacchetti e Mori Che hanno 40 secondi Mentre le avanguardie del gruppo hanno un ritardo di 50 secondi Questa è la situazione al primo passaggio dal Gran Premio della montagna Ora con le nostre immagini siamo già in pianura Vedete al comando 5 corridori Riconoscete la maglia a scacchi bianco-rossi È quella di Felloni che veste la maglia di leader del trofeo Piero Frosini Per cui questa gara è valida Quindi Felloni ha raggiunto gli uomini al comando Sono in 5 al comando Intanto mentre sta andando avanti questa situazione Vorremmo ricordare il contributo dato all'organizzazione dal Circolo Arci Vangile Dal Circolo Arci Lando Vinicio Giustredi di Masse Cozzile Poi gli sponsor Franchi Caribù la miglior cellulosa Fabiani Gioiellerie, Fiera Agricola Oma Impianti, Agriturismo di Croci Vepi Graf, Credito Cooperativo della Valdinievole Poi la Vera in Legno, l'azienda sempre vicina alla società organizzatrice L'hotel Residenze Bosco Lungo L'Oleificio Sociale Valdinievole Oltre ad altri che hanno contribuito alla riuscita di questa gara Ed ora con le immagini siamo sugli inseguitori Gli inseguitori sono Lazaro e Genovese Che inseguono a 35 secondi gli uomini di testa Questa situazione è al chilometro 57 di Corsa Una gara come dicevo subito molto combattuta Che ha messo a dura prova i concorrenti Anche perché la giornata è veramente affosa Stanno passando intanto altri corridori Questa è la situazione quando ripeto siamo al chilometro 57 di Corsa Ed ora stiamo rimontando Ci portiamo nuovamente sulla testa della Corsa E al comando troviamo un gruppetto ora composto da 7 corridori Siamo al chilometro 62 Stiamo passando nuovamente da Vangile Si tratta di Sacchetti, Stefanelli, Dicep, Benvenuti, Sedita, Felloni e Mori Questi sono 7 corridori che praticamente hanno quasi in mano la corsa Visto che hanno un vantaggio di oltre 50 secondi nei confronti degli inseguitori In questa 48esima coppa Lando-Vinicio-Giusfredi A cui vogliamo ricordare ha contribuito anche il comune di Massacozzile Mettendo a disposizione l'ottavo trofeo Per cui questa gara è valida Ed ora dobbiamo dire che ormai i corridori stanno per affrontare la salita Sarà la salita di Massacozzile Affrontata per la seconda volta a decidere la corsa Ora passano i primi inseguitori Si tratta ancora di una volta di Lazzaro e Genovese Che hanno 50 secondi di ritardo Mentre a un minuto passa il numero 2 Polai con un minuto di ritardo Ed ora siamo sulla salita Sulla salita di Massacozzile Dove c'è un allungo deciso di Felloni Felloni attacca decisamente sulla salita assieme a Dicep Però Dicep perde contatto proprio in questo momento Abbiamo visto il momento esatto in cui Felloni si è liberato anche di Dicep Prima si era già liberato degli altri 5 compagni di fuga Ed ora sta progressivamente aumentando il vantaggio Con un'azione veramente limpida Sta andando veramente forte il ragazzo della Pozzarella Ora vediamo passare Dicep Accanto a lui fa i concini, radio informazioni Ora ecco sedita, sedita già a 23 secondi di ritardo A questo punto alle sue spalle gli altri corridori che facevano parte della fuga Quindi Sacchetti, Mori e Benvenuti Il trio della RCG ha perso contatto Vediamo una bella azione in salita veramente di sedita Abbiamo visto Capocchi che collabora assieme a Falconcini a radio informazioni Che ci ha comunicato che il vantaggio è ancora aumentato Vantaggio ancora aumentato per Felloni in cima alla salita Quindi a questo punto il ragazzo della Pozzarello Veramente ha fatto una bella e grande azione Che gli dovrebbe permettere ormai di avere in mano questa 48esima coppa Lando Vinicius Fredi Il suo vantaggio in cima alla salita è di 25 secondi nei confronti di Dicep Ha cercato di resistere ma non è stato niente da fare Ora il quartetto composto da sedita, sacchetti, Mori e Benvenuti Quando siamo a 7 chilometri dall'arrivo Ed ora con le nostre immagini siamo al cartello 5 chilometri 5 chilometri mancano a Felloni per conquistare il successo In questa 48esima coppa Lando Vinicius Fredi Organizzata dall'AS di Gius Fredi Vene il legno di Massa e Cozzile Il quartetto che ora è diventato un quintetto Perché Dicep è stato raggiunto Ha un ritardo di 35 secondi nei confronti dell'uomo di testa E intanto vogliamo ricordare anche il contributo che hanno dato Cicli Panconi, la Torrifazione Punto Vendita Michelotti Gian Mario Laser 2 articoli promozionali Tipografia LM, Natali Maglie Sport Bartoli Packaging E la ditta Vabe Matic Questi sono stati tra l'altro anche questi sponsor per questa bella manifestazione Ora siamo ormai nelle fasi finali Siamo all'ultimo chilometro Ultimo chilometro per Felloni Un Felloni che è veramente stato superiore agli avversari Ha ulteriormente incrementato nella fase finale il vantaggio E come ci dicevano Capocchi e Falconcini Ormai sono quasi due minuti il vantaggio per il corridore della Pozzarello Che così consolida anche la leadership nella challenge Piero Frosini Quindi splendida vittoria per Felloni Federico Felloni ottiene il successo Mentre ora vedremo lo sprint per il secondo posto Ecco uno sprint a tre Ed è sedita del team Valdinievole Che ottiene la seconda posizione Terzo Marco Disep Quarto Mori Damiano Mentre più attardato vediamo arrivare Adriano Sacchetti Sempre della quattro strada RCG Trecificio Mentre ultimo del gruppetto che faceva parte della fuga Si tratta di Davide Benvenuti Che occupa la sesta posizione Sesta posizione per Davide Benvenuti Ora vediamo arrivare Nicola Stefanelli del team Valdinievole Mentre con oltre quattro minuti All'ottavo posto Anthony Lazzaro Della pad Pozzarello Spina al Sicilia Al nono Vincenzo Santoro E al decimo ora vediamo arrivare Nicola Genovese Ambe due della stessa società Ed ora a questo punto passiamo alle interviste del dopocorsa A cura di Renato Ferretti Allora siamo con il vincitore della 48esima Coppa Lando Vinicio Giustredi Felloni accanto ai suoi compagni di squadra Unnesima vittoria Com'è maturata? Sì è stata una gara triata fin dall'inizio All'inizio ci sono state diverse fughe E ho cercato di entrare in diverse ma non c'è stata niente da fare E la prima volta che si è affrontata la salita ho provato ad andarmene Si è formato un gruppetto e alla fine mi sono sganciato Bella vittoria solo, un percorso giustamente selettivo ma non particolarmente duro Era abbastanza duro, non come forse attraverso anni tempo fa Però era sempre un bel percorso che andava affrontato nelle giuste maniere E siamo con il direttore sportivo della Pozzarello Spinale Che anche oggi è risultata brillante vincitrice sul traguardo della Coppa Giustredi Sì siamo contenti, il risultato è dei migliori, la vittoria è la cosa più bella per un corridore Oggi la fortuna ha girato per noi, siamo rientrati e poi in salita Felloni ha fatto la differenza E ora è un momento che in salita riesce a fare la differenza Siamo contenti, la squadra diciamo che ha lavoricchiato benino E speriamo di continuare così e di migliorare Roxx, un nome breve per camminare più a lungo Roxx, un nome breve per volare sempre più in alto Roxx, un nome breve per camminare più a lungo